Potrebbero essere una svolta le indagini su una serie di furti avvenute negli ultimi mesi nella zona di Balestrate. I arabrieri dalla compagnia di Partenigo, guidata dal capitano Mario Petrosino, sarebbero sulle tracce dei ladri, dei colpi e in breve potrebbero emergere importanti novità. In questi giorni diverse vittime sarebbero state chiamate per provare a individuare e identificare della merce ritrovata e alcuni di l'ombro avrebbero effettivamente riconosciuto oggetti che erano stati asportati dalle loro abitazioni. Negli ultimi mesi a Balestrate si erano verificati diversi furti in abitazione e in certi casi anche mentre i proprietari erano in casa. Una situazione che aveva creato timori soprattutto tra le persone più anziane ma che ha visto i carabinieri subito all'opera. La locale stazione agli ordini del luogotenente Eugenio Benvenuto sarebbe riuscita a risalire ai presunti autori che si sarebbero mossi in maniera spregiudicata. Sulla indagine è ancora a massimo riservo ma nella comunità si è sparsa già la voce che ha rassicurato in molti. In attesa di importanti risvolti e attesi nelle prossime ore, che avesse subito un furto può sperare adesso di ritrovare quanto sottratto rivolgendosi ai carabinieri e mettendosi in contatto con la stazione di Balestrate o il comando di Partinico.